Ehi, lei, ti ricordi quando ti ho detto che alla fine l'avrai trovato, ce l'ho qui quello stronzo? Chi è lei? Ti stavo aspettando. Non è un altro. A volte la vita è strana. Ti rimangono impresse certe frasi e non te le puoi più scordare. Ho del denaro con me. Fermo! Faresti di tutto per il denaro, non è vero? Non si può uccidere per denaro. Ah no? E chi lo dice? Chi sei? Per me essere uomo ha significato soprattutto imparare ad odiare. Per tutta la vita ho nutrito l'odio. E l'odio ha nutrito me. Col tempo e l'esercizio sono diventato un esperto d'odio. Conosco tutte le sue sfumature, acide e amare. E anche il calore che propaga nel corpo. C'è chi dice che l'amore scalda. Ma io posso affermare che l'odio scalda molto di più. L'odio è il mio mezzo e il mio fine. Ho evitato le donne, l'idea di un figlio, in nome dell'odio. Anche l'amore di una notte poteva essere pericoloso. Così ho evitato anche quello. Non potevo permettere che qualcosa mi distresse dall'odiare. Odio per amore di mio padre. Hanno distrutto la sinagoga. Saccheggiato i negozi. Loro oramai sono qui. Non essere stupido, questo è un paese piccolo. Santi Tamirata, nascondi tutto, hai capito? Hai capito? Nascondi tutto. Nascondi tutto. Nascondi tutto. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Marchiato come una matricola sulla pelle Stavo impazzendo Avevo bisogno di endito Per ritrovare quel volto avrei pagato a peso d'oro chiuno Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione